La soddisfazione è immensa perché era quello che volevamo. Anche il fatto di aver avuto la salvezza con una giornata di anticipo, visto la situazione che si stava delineando un pochino drammatica, è stata una grossa soddisfazione. Perché se questo obiettivo non veniva colto a Roma, venire a Urbino a giocare l'ultima partita e con la necessità di avere i punti per salvarsi, penso che non era una bella situazione. Siamo molto contenti comunque. E a Urbino c'è stata una bella festa, vi siete divertiti, è stato importante festeggiare anche con i tifosi. In questo tempo, in questo periodo in cui si esce dalla pandemia, ritrovare i tifosi, ritrovare questa atmosfera è sempre piacevole. Certamente sì, abbiamo cercato di fare il minimo indispensabile in questa situazione di pandemia, quindi non è che si potevano fare cose in grande. Comunque i tifosi c'erano e quindi è stata una bella festa. Mi dispiace che mentre noi giochiamo c'era qualcuno, l'altra squadra, che non era della stessa situazione, perché comunque noi li abbiamo condannati alla recessione. Ma lo sport è anche questo, ecco. Ecco, coach Buonafede l'ho sentito due settimane fa, mi ha detto che le ambizioni per il futuro sono queste, ovvero quello che la Megabox il prossimo anno può fare uno step in più, ovvero quello di salvarsi più tranquillamente e poi ambire anche magari i play-off. Ecco, lo chiedo a lei, è questa l'ambizione vostra? E se è questa, come potrebbe essere migliorata la squadra? Quali tasselli potrebbero essere migliorati? Sicuramente quello che ha detto coach Buonafede è la verità, perché noi vogliamo ripetere un anno, anche se è stato, diciamo, sotto ogni profilo quello che cercavamo. Quest'anno, per la prossima stagione, vogliamo fare un campionato con una tranquillità di salvezza da raggiungere qualche giornata prima, puntare ai play-off e questa è la nostra ambizione. Poi i play-off si può arrivare a ottavo, si può arrivare a settimo, a sesto, ecco, quello è il nostro range, ecco, magari anche quinti, ecco, quello è il nostro range, non è che possiamo pensare di arrivare tra i primi quattro, quindi, però la squadra la stiamo impostando, diciamo, per queste ambizioni qui, ecco. C'è la questione Palazzetto, sembra che la Giunta Comunale abbia approvato questo via libera per un possibile finanziamento dell'ampliamento del Paladionigi. È un, diciamo, un aspetto importante per voi, per la città di Vallefoglia, il fatto di poter assistere magari in futuro, non dal prossimo anno, ma la propria squadra qui a Montecchio di Vallefoglia? Beh, sarebbe, diciamo, la nostra ambizione, anche se io sono molto pessimista sulle tempistiche, perché, secondo me, ecco, non sono cose che si possono raggiungere a breve termine. Secondo me, qualche anno, già sarei molto contento, ecco, però, ecco, il passettino l'ha fatto anche la Giunta, ecco, quindi la Giunta Comunale. Quindi noi siamo fiduciosi che comunque anche questo segnale che siamo andati vuol dire che c'è attenzione nei confronti della nostra società, perché comunque penso di aver dato un po' di immagine, di notorietà al Comune di Vallefoglia, ecco, a livello nazionale. Quindi questo penso che la riconoscenza poi da parte della Giunta Comunale sia, lo dico, dovuta, però ecco, sono contento di questo inizio di un percorso.